Pronto ad entrare Raffaele Corapi, intanto Canestrari Braccia armato, riflette, si insieme ai piedini, poi spara Corapi ci prova da 3, Corapi Agosto Agosto, la finta di Agosto Sipo, 10 secondi da andare al tiro, Canestrari, Bernunzio, Sabatino, fino in fondo, terzo tempo di rompente Nunzio Sipovac ci prova da 3, Sipovac Ancora Darold, assist no look, spettacolo, Sabatino, ancora per Federico Bella la circolazione di palla della capolista, bomba di Mladen, Dimitrovic Federico Perez, Darold Sotto Canestrari, assist di Federico I ragazzi sono seri professionali e hanno militante, per quello che è, inimmaginabili, in seri a, tra loro c'è stato un mondo tierno, che ha dato lo strono nonostante, 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 nonostante. Sotto Canestrari Il suo bistuto e i suoi trasforsi, in segno del supermerato, il migliorissimo capitano, nonostante, nonostante. Sotto Canestrari 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 di chi è legato a questa società. Un saluto e un ringraziamento da parte di Sergio Ippolito. Un saluto e un saluto. 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 Un saluto e un saluto.